State sperimentando il fuoco purificatore. L'equinozio di marzo arriva nel nostro emisfero questo mercoledì. Oggi, 20 marzo, il giorno dell'inizio della primavera, a zero gradi ariete. Molti hanno sperimentato una profonda purificazione cellulare durante questi ultimi giorni del ciclo astrologico annuale. I pesci, la dodicesima casa dello zodiaco, rappresentano la parte più profonda del subconscio e governano sogni, visioni, intuizione e mistero. Così tante cose stanno emergendo alla coscienza mentre il ciclo giunge alla fine. State sperimentando il fuoco purificatore del raffinatore, in preparazione alla stagione dell'equinozio e dell'eclissi. Le eclissi sono eventi turbolenti che innescano momenti di rivoluzione. L'eclissi lunare del 25 marzo e l'eclissi solare dell'8 aprile si trovano sull'asse nodale, ariete e bilancia influenzano la tua relazione con te stesso e gli altri. Alcuni astrologi considerano l'eclissi solare dell'ariete in congiunzione con Chirone, uno degli eventi cosmici più trasformativi del 2024. Simbolicamente il sole rappresenta l'identità fondamentale e l'immagine di sé. L'ariete rappresenta il sé individuale. Un'eclissi solare a 19 gradi in ariete è associata all'esplorazione di sé, congiunta a Chirone. Approfondisce il sé nascosto e ferito, quindi c'è da aspettarsi un disfacimento di vecchie forme pensiero, credenze ancestrali, prospettive obsolete e comportamenti malsani. C'è molto da elaborare, poiché i vecchi costrutti si rompono e cadono a pezzi, lasciandosi dietro il fiorente vero te. La metamorfosi si estende fino allo strato molecolare, l'organizzazione quantistica delle particelle che informano la tua espressione materiale nel mondo. È un processo di destratificazione della vecchia carcassa umana che non ci sta più. Dobbiamo sbarazzarci della vecchia, antiquata persona egoica, una costruzione artificiale fin dall'infanzia che ha compiuto l'opera dell'illusione. Questo non è il vero te, ma strati di meccanismi di coping e risposte reattive per sentirsi al sicuro in una realtà di separazione, mentre continui ad abbracciare la presenza dell'anima nel tuo corpo, nel tuo cuore e nella tua mente. La personalità è egoica, diventa limitante, distante, controllante e blocca di fatto il tuo percorso. Hai raggiunto la fine della linea. Non si può più permettere all'ego malsano di dominare i pensieri, le emozioni, le scelte o le azioni della vita quotidiana. Inizia la battaglia per il controllo. Chi dirigerà lo spettacolo è da questa consapevolezza del sé superiore quando fluiscono la saggezza dell'anima, le idee e le ispirazioni che ti rendi conto che l'ego malsano non agisce nel tuo migliore interesse. Ha un altro programma, ha un disperato bisogno di sentirsi e credersi superiore, migliore degli altri, più intelligente, onnisciente. L'ego immaturo impone questo programma a tutti. È implacabile e desideroso di controllare e dominare. Il passaggio dal sé egoico inferiore all'emergere del sé superiore. È un processo profondo e potenziante. Dalle ceneri della falsa personalità, sorge l'essenza divina che sei tu, il vero sé. Questo è un momento potente per le scoperte dell'anima. I prossimi transiti dell'equinozio e dell'eclissi attivano i nulli magnetici del punto zero, creando un portale per connettersi a tutto ciò che sei. Non perdere questa rara opportunità di attivare più connessione e incarnazione dell'anima.